Un trasporto VIP Aspetta che ho guardato Ok, dobbiamo trasportare un attore Sembrerebbe, non sappiamo ancora il nome Oggi ragazzi se non avete ancora capito Siamo in trasporti VIP Quelli là, bardati, eccezionali E ovviamente qua, vetri oscurati Questa macchina è completamente indistruttibile Adesso dobbiamo andare a prendere un attore Aspettate che reggo il nome un attimo Ah, abbiamo un attore che non c'è più Michael Jackson? Perché Michael Jackson proprio? Mi sa che Michael Jackson qualche anno fa è morto Ok, va bene Tanti anni fa veramente, però pazienza Allora ci mettiamo qui Perché il gioco non è che poi è così tanto aggiornato In teoria Ok, così potrebbe andare bene Siamo armati di mitragliatori pesanti Ecco, io credo che andiamo molto bene La pubblicità mi dà fastidio Però comunque era un pesciolino che cadeva Ce l'hanno fatto notare Di rispettare sempre i pesci Non buttare cose in mare Comunque penso che Allora, vediamo un po' se c'è tutto Lì ci sono delle valigioni Lì c'è un'arma Ma in quel taschino Poi ovviamente è tutto comodo Ok, avevo un'arma Ma c'è pure una sacca di sangue Lì c'è il poggio tutto Allora Lì c'è la pistola Vabbè ce l'abbiamo noi per st'ora Ok, allora Facciamo giusto due cose E aspettiamo che salga È salito perché mi è arrivato Ok, allora Io non lo vedo Però è meglio che guida così Dobbiamo andare in un posto Devo andare all'ospedale? Ok Va bene Michael Jackson deve andare all'ospedale Ok, non è che Stavo prevedendo il futuro Va bene, va bene Magari si deve andare da qualche suo amico in ospedale Non lo sappiamo Ora possiamo andare qua Che facciamo prima? Non si preoccupi Grazie, grazie Fattore di tromarci Abbiamo i vetri completamente oscurati Perché ci sono ovviamente i paparazzi Adesso siamo singolarmente Allora Per arrivare all'ospedale bisogna passare Di qui, ok Dovevo pure accompagnarlo Magari aspettarlo che finisca Perché Ci vorrà un po' di tempo Perché noi lo dobbiamo scortare ovviamente Dentro ovviamente ci saranno già della polizia Anzi Tutte i cavalli non ci sono chiamate Quindi Penso che ci sia la polizia Visto che mi dicono così Allora Signora però l'ho investita Eh vabbè Se non si toglieva ragazzi Che non ci devo fare Allora Adesso compiliamo i documenti Eccole qui Tanto lui penso che sia già Sceso Ok Allora Fatto Che ore sono? 19 e 49 Ok Dobbiamo vedere che arma bellissima ragazzi Avevo un mitragliatore Non mi ricordo il nome Perché non sono aspetto di queste cose Allora Deve essere già sceso Dovrei andare da qualche suo amico La gente potrebbe già capire Quindi prendiamo l'arma Il mitra Potentissimo Ok Allora Salve signore Mi dirò i documenti Facciamo un pochino Illegali Perché Io vi ricordo che noi siamo Di poliziotti Quindi Eh l'ambulanza È entrata Ha investito tutti E non ci credo Ma non ci credo Ma non sanno che c'è Michael Jackson E niente Mi sta investendo Mi scusi Ma Lei non sa Lei non sa guidare Oh Questo sì Che bella Quest'arma Lei non sa guidare Signore Se lo faccio a dire Perché veramente Mi è venuto addosso Comunque prendiamo l'arma buona Perché Qua La situazione è già Molto Quindi Mi stanno già chiamando Per un altro trasporto Ah ok Tra un po' Dobbiamo trasportare Degli youtuber Adesso poi guardo Il loro nome E Comunque Boh È salito È salito Penso di sì Mettia così tanto lui È venuto davanti Non so perché Adesso dobbiamo riportarlo A casa E niente Speriamo che non ci attacchino Che non facciano Cavolate Per ora è tutto a posto Non mi ricordo più dove era Era qua Ok Ok Possiamo Documentare Che è andato tutto A posto Grazie Michael Jackson Un saluto Anzi guarda La firma Te la chiederei Ma visto che Te l'ho già Trasportato 58 volte Direi Arrivederci Grazie Ok allora Ho fatto Dovevo Trasportare Degli youtuber Ok Che è questo qui Non ho capito Che è Vabbè Comunque Mi sa che è Lo youtuber Più famoso Al mondo Più famoso Di qualche stato Dell'Europa Non lo so Andiamo a prendere A casa sua Che è abbastanza Povera Qua vicino Bisogna girare Sono in contromano Ma di brutto Proprio Qua c'è la banca Ok Penso che sia Qui Ok E questa signora Si è affermata Un pochino Allora Compiliamo Aspettiamo Che salga Perché ci metterà Un po' Intanto Dovrei fare La covergenza Questa macchina Non mi piace più Dietro no Neanche la targa Ovviamente è scurata Pure la targa Perché questo veicolo Avevamo solo noi La chiave Ovviamente è Bardato Completamente Ventilanti proiettile Carrozzeria Indistruttibile Gocce Vabbè Lasciamo stare Ok allora Comperiamo questo qui Siamo in Via Non c'è scritto Nessuna parte Ok Ok è uscito Mi sa Lo vedo Aspecchato Ok è entrato Allora Salve Lei chi è? Mi sa che Questo qua Appare un'altra lingua Voi non sentite Nulla Ma io sento Tutto Ho disattivato I suoni per voi Perché se no Poi sentivate Tutto E poi un casino Io sento Quella voce Squillante Lui deve andare Soltanto al bar Quindi ok So già dov'è E dall'altra parte Ok passiamo di qua Che è meglio A me è metà benzina Ce la facciamo Ce la facciamo Ci stanno facendo Allora Prima abbiamo trasportato Michael Jackson E adesso ci fanno Degli attacchi Cioè ci vogliono Ribaltare Ok Aumento la velocità Ok Va bene È molto difficile guidare In queste condizioni Speriamo che Comunque Non ci toccano Ok 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 Questa è colpa mia Scusate Scusate Adesso passo Di qui Così Ok E che è sto qui Ma Ho visto qualcosa Uh ci stanno incorrendo Ci stanno ricorrendo Non ci credo Ok Allora Dovevo andare Nella zona Dove si mangia Dove si fa tutto Penso che sia Qua da qualche parte Allora Uh mi sta sparando Non ci credo Mi sta sparando È un attacco È un attacco Ma perché sto gonfiando Un palloncino Io non voglio gonfiarlo Grazie Ok Uh Ci stanno attaccando Ci stanno attaccando Cosa ci levantano Il percorso Non ci credo Non ci credo Ragazzi Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ragazzi Non ci credo Mai nella vita Non ci credo Sto tirando fuori Una pistola Perché Ok Non ci credo Ragazzi Non ci credo È morto Michael Jones Eh sì Michael Jones Mi sa che è morto L'altro Porca Sta venendo l'ambulanza Siamo qui Siamo qui Non mi sa Che era uno Di loro Cioè Ma allora L'ultuber era questo E loro Ci hanno attaccato Con le armi Non le ho uccisi Io Li ho uccisi Con la mazza Facciamo finta Sono queste Poi rompono Le scatoline Poi chiamano la polizia Sì Allora Qua è lo youtuber Prendetelo Per il problema Questi poi Li ho uccisi Io Oh L'altro attacco Oh Calmati 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 Ti prendo Le mangarellate Oh Non ci credo Non ci credo Quanti attacchi Quanti attacchi Prendono la pistola migliore Quanti attacchi Quanti attacchi Ci stanno ammazzando Qua Ma non ci credo Io Ma ormai basta L'attacco è già fatto Vengono le altre Guarda Questo è l'armato Di una pistola E un mitralettore Come il nostro Stanno già portando via tutti Questo Una pistola Mi sa Non mi ricordo più Questa ambulanza Mi investe Adesso Spare in bocca Ok Ne ho trovato Un'altra macchina Prendiamo questa Io non ci credo Che ci hanno attaccato Ci hanno mandato Il veicolo a fuoco E Michael Jackson E Io ce l'ho con Michael Jackson Da tutto il giorno Non lo so Adesso dobbiamo prendere Il presidente Di qualcosa Aspettate che mi è arrivata La chiamata Mi devo fermare un attimo Wow Dovevo fare una scorta Al presidente Mattarella Ok Che bellezza Ragazzi Se volete scaricare Questa Mod Dovete Girare per tutto Internet E poi Allora Vediamo il pesce Come si comporta Questa volta Bene Sta scendendo Bene Ok Il pesce Il pesce Allora Qua c'è la macchina Della polizia Ovviamente Siamo nella polizia Noi però Siamo La forza Spiccia Ah Quella lì Era una macchina Antibomba Bellissima Oh Eccolo qua La bestione Ovviamente Ce ne abbiamo 12 ragazzi 12 Allora Per ripresa Presidente Mattarella Ci vorranno Pochi minuti E andare a fare Il fornimento Ok Allora Presidente Mattarella È abbastanza lontano Ok Allora Adesso Facciamo il viaggio E niente Vediamo cosa Dice Mattarella Mi sa che Abita Ho capito Dove è Eh sì È lontanissimo Allora È molto lontano Uso il nos Ok Uso il nos Anche se va usato Il gas In emergenza Però anche se Sei un pochino Irruttando Ho preso In piedo Tutto Ok Bisogna andare Bisogna andare Tanto non ne vuole Nessuno Vai 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 Comunque Nos Si utilizza Ok Quando Magari Siete sposando Una persona Veramente Importante Senza la scorta Proprio completa Signora Si tocca Niente È rimasta In piedi È riusvenuta E si è aggrappata Lì Ok Allora Andiamo qui Ho capito Dov'è Qui Presidente Mattarella Vive qua Ragazzi Dove c'è la Jay Perché è Molto speciale Queste non si tolgono Io li investo Eeeh Il cancello Brutto Ok Allora Ci mettiamo Così Questi se ne devono andare Se no Li prendo manganellate Perché non possono stare In quest'area Ok Bene Vuol dire che Gli sparerò Va bene Allora Signore Se lei Eeeh Fermati Fermati Lì Fermo Allora Ti controllo i documenti Mmm Illegali Ok Perché io devo vedere La gente Attaccare tutti Ma adesso mi interessa Eeeh Signore Allora Lei non può andare Quindi se ne deve andare Se ne deve andare Eh Se ne deve andare In due secondi Cammini Forza E se ne vada Car Corri Corri Ok Sta arrivato Sta arrivato Dovevo andare dentro Perché Dovevo prendere un'anoma Cavolissima Perché oggi Parlo solo di Allora Prima di registrare i video Ovviamente Passa la giornata Perché Se no Non posso Registrare i video Tutto il giorno È tutto il giorno Ok è salito Comunque È tutto il giorno Che dico Cavolo Cavolissimi E altro Vediamo da quanto registro Perché Ok E beh Non so perché Andiamo dritti Per dritti Ok Proprio già Qua Giusto vicino Qui Ok Eccolo qui Ok Comunque Il ritorno Lo faremo In un prossimo episodio Perché ci stiamo Allungando con i tempi Quindi Mattarella Puoi scendere pure È tanto È dovuto andare al supermercato Non so perché Comunque scendiamo dalla macchina Pure noi Lui mi sa che sta prendendo Un caffè in macchina Ok Allora prendiamo un'arma Ok Ragazzi Con questo trasporto VIP speciale Con un attacco Speciale Vabbè Con un attacco Terroristico Pazzesco Stavo per esplodere Pure io Però comunque Ci siamo salvati E ci vediamo In un prossimo episodio Che Il prossimo episodio Mi sa che ci saranno Persone Molto speciale I video usciranno sempre Martedì Giovedì E sabato Ricordate Ricordate Mamma mia Vi spazzo tutto Ok Quindi ci vediamo Giovedì Con un altro video Sempre I video escono Alle 21 E 30 Ogni giorno Poi ovviamente Cameranno gli orari Quindi Picchiamo questo E ci vediamo Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.